e allora siamo di nuovo al bingo poco spazio poi abbiamo i caricamenti bloccati per qualche giorno quindi andremo in differita e ci sono abbastanza automobili qui in zona fatto questo telefonino vedete vede quante auto e significa che il bingo cattura il monte premi non è di primo livello ma cattura 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 tante persone si esce poi alla spicciolata il bingo dicevamo è un passatempo come tanti